Ciao ragazzi, allora un piccolo chiarimento riguardo agli accenti. Allora, non è che sono dei colpi più forti rispetto a colpi già forti di per sé. Sono dei colpi che si distinguono per un'intensità sonora maggiore rispetto a colpi che vanno eseguiti a tappeto, quindi con dinamica bassa. Quindi un piccolo esempio potrebbe essere questo. Grazie a tutti.